Cari ragazze e cari ragazzi, oggi celebriamo la centesima giornata internazionale della donna e la celebriamo in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita di Grazia De Ledda. Un pensiero particolare va a tutte le donne ucraine che stanno affrontando momenti di grande dolore con grande coraggio. Grazia De Ledda era una donna eccezionale, una scrittrice straordinaria, letta e amata in tutto il mondo, prima e unica donna italiana insinita nel 1927 del Nobel per la letteratura, è da sempre considerata uno straordinario simbolo di riscatto, modernità e progresso. Un esempio per intere generazioni di donne, un'esortazione a prendere coscienza delle proprie potenzialità a non abbassare mai la testa, nemmeno di fronte ad ostacoli in apparenza invalicabili. Ricordarne la figura insieme a tutta la potenza narrativa delle sue opere in occasione dell'8 marzo è senz'altro un'opportunità, un'opportunità per rinnovare la consapevolezza di come il percorso dell'emancipazione femminile continua ad essere un libro incompiuto e con tante pagine ancora da scrivere. Troppe sono le discriminazioni, le barriere, i pregiudizi con cui anche nel nostro paese molte donne devono continuamente confrontarsi in ogni ambito della loro vita, dalla famiglia alla scuola, alla società, al lavoro. Troppe sono le violenze fisiche, morali o anche solo verbali di cui sono sempre più vittime le donne, solo in quanto donne e spesso in un contesto di indifferenza o incomprensione altrettanto colpevole. Troppe sono le dignità calpestate, le prevaricazioni e le forme di moderna schiavitù che in tante regioni del mondo ancora affliggono milioni di donne. Abbattere tutte queste ingiustizie è un lavoro enorme ma è un lavoro che dobbiamo portare a termine con ostinata determinazione e dobbiamo farlo insieme perché la storia ci insegna che quando si parla di uguaglianza di genere non basta una legge per poter affermare che un diritto è stato conquistato, che una libertà è stata assicurata. Occorre che questi diritti e queste libertà possano diventare parte di una comune identità culturale, una cultura che ciascuno di noi può contribuire a promuovere, insegnare e divulgare con ogni mezzo e in ogni angolo del pianeta anche solo con un libro. Questa è la strada che Grazia De Ledda ci ha mostrato inseguendo sin da bambina con penna, inchiostro, tenace e talento il suo sogno di arte e di creatività. Questo è l'impegno che l'8 marzo ci ricorda di ritrovare ogni giorno per dare un finale di speranza universale all'emancipazione femminile e costruire un futuro migliore per le donne di oggi e per quelle di domani. Ringrazio Andrea Soddu, Sindaco di Nuoro, per avermi invitato a questa riflessione in occasione dell'evento dell'ediano di quest'anno. Un evento che è stato posto quest'anno insieme con il centesimo, con la centesima giornata internazionale della donna e credo che sia assolutamente importante proprio ricordare Grazia De Ledda, ricordare come Grazia De Ledda è riuscita a cavallo dei due secoli a dare a tutti noi questa immagine di una donna che pienamente è riuscita ad assorbire in sé la terra, la madre terra e a riscattare anche una terra che poteva sembrare lontana dalla nuova Italia e a fare invece una bandiera della nuova Italia. Vi è in tutta l'opera di Grazia De Ledda questo continuo, questa continua tensione che io ho sempre trovato straordinaria fra l'essere pienamente parte della terra, della sua terra, di questa Sardegna antica e forse anche difficile da comprendere che diventa in Grazia De Ledda la terra tu cur, l'appartenenza tu cur ad un mondo e a farlo diventare invece il prototipo di un'apertura, di un'apertura basata però sulla coscienza della dignità delle persone. Io credo che mai come oggi, mai come in questo momento l'insegnamento di Grazia De Ledda diventi fondamentale per affrontare questa fase, una fase in cui dopo due anni di pandemia, di chiusura, di separatezza è forte anche la tensione, a volte anche la rabbia, a volte anche, e ne sono pieni i nostri social, anche di, sì, di invettive, a volte anche di odio. Il pensiero di Grazia De Ledda che diventa cruciale in questo 8 marzo è invece questa grande capacità di vedere il mondo nel suo insieme rimanendo pur fortemente radicati in un territorio e quindi questa idea di un riscatto e di un'emancipazione che è della donna ma è anche di tutto quel portato di storia, di tradizione, di identità che avrebbe potuto e sarebbe stato e in molte situazioni è stato di fatto negato e sostanzialmente rifiutato e respinto. Per questo io credo che diventi fondamentale proprio questo che viene proposto qui, questo fatto di legare la festa della donna a una figura di donna come Grazia De Ledda, che ha saputo trasformare la propria presenza in una testimonianza che va al di là del tempo, una testimonianza che va al di là della sua stessa vita e diventare un elemento portante di questa Italia che deve sempre rinnovarsi e sempre ritrovare in sé le ragioni per una identità ma anche per una trasformazione che non neghi mai la nostra storia e le nostre storie. Per questo credo che sia estremamente importante questo momento di riflessione e credo che sia estremamente importante anche la partecipazione di molte donne che testimoniano sicuramente le difficoltà ma anche il fatto fondante che la nostra è una Repubblica che deve dare ad ognuno e non uno di meno le opportunità per crescere, le opportunità per affermare la propria identità e quindi anche le proprie identità in una Repubblica che per definizione è unitaria proprio perché riconosce la pluralità delle voci che organizza la nostra vita collettiva. Quindi grazie ancora una volta per questo lavoro, grazie soprattutto per aver ricordato che l'8 marzo è una festa di tutti e è una festa di tutti coloro che riconoscono nell'eguaglianza, nella parità, nelle possibilità di scoprire continuamente le nostre radici, l'elemento fondante della nostra Repubblica. Grazie veramente ancora una volta per il lavoro che viene fatto costantemente per riscoprire il senso profondo del nostro Paese. Il nostro Paese è fatto di tante diversità, ma sono queste diversità che compongono la nostra democrazia. Grazie a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti, è con vero piacere e partecipazione che porto il saluto della Sapienza, l'Università di Roma, a questa manifestazione per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia dell'Elda, un incontro che coincide con la giornata internazionale della donna ed è per questo che voglio sottolineare che nel 1926, Grazia dell'Elda, è stata insegnata del massimo riconoscimento scientifico per la letteratura, per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un atto ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua partata isola natale, che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Dietro alla diroppente assegnazione del Nobel alla letterata sarda, si cela una determinazione che non è uguale nel panorama letterario delle scrittrici femminili italiane dell'epoca, un premio che ha consacrato il rilievo mondiale della scrittrice, una scrittrice che sin dalla primissima adolescenza si sentiva ed era nata per la letteratura. Grazia dell'Elda ha scritto per 50 anni esatti, ininterrottamente incontrando il favore del pubblico e conquistando via via anche i critici più scettici. Nata a Nuoro nel 1871, Grazia ha frequentato la scuola primaria fino al quarto anno e il suo bagaglio formativo non è dunque paragonabile a quello di D'Annunzio, Pasquio e Pirandelli. Eppure Grazia dell'Elda, nonostante il suo essere autodidatta, appartenente a una realtà periferica, lontanissima dai centri culturali della penisola, è riuscita ad entrare in contatto con le istituzioni letterarie del tempo e a farsi conoscere come una scrittrice di una Sardegna ancora arcaica, chiamata la Cenerentola d'Italia, verso la quale la curiosità e l'interesse da parte degli studiosi del folklore, degli etnografi e dei lettori erano massimi. Roma era il suo miraggio, una città che l'ha poi accolta insieme al marito, compagno di lavoro e di esistenza, Palmiro Matesani, figura quest'ultima per lei preziosa, ma direi non determinante, è grazie alla sua tenacia e audacia che Grazia dell'Elda è riuscita a raggiungere il suo primo e forse unico obiettivo, accanto a quello di costruirsi una vita familiare appagante. Dell'Elda non ha smesso mai di scrivere, anzi la vita matrimoniale ha agevolato la sua vocazione che ha espresso in novelle, romanzi di sicura grandezza come Rias Portoluo o Canne al Vento, affermandosi come narratrice di un'Italia ancora divisa tra la civiltà contadina e la modernità industriale borghese. Oggi i numerosi convegni e incontri per i 150 anni della nascita di Grazia dell'Elda, a cui anche Sapienza ha voluto dare il giusto e doveroso risalto, stanno facendo scoprire ancora più la complessità della sua figura, il valore della sua opera e della sua altrettanto coraggiosa biografia che merita di essere promossa e segnalata anche alle giovani generazioni. Per intendere compiutamente la personalità e l'opera di Grazia dell'Elda, è necessario capire da quale complesso di moventi spirituali e culturali abbia preso le mosse quel processo di maturazione che raggiunse il suo culmine, la sua consacrazione, il 10 dicembre del 1927 a Stoccolma, quando l'Accademia di Svezia conferì alla scrittrice nuorese il premio Nobel per la letteratura, prima donna in Italia e seconda al mondo. Si deve tener conto che alla sua formazione etica ed estetica, intellettuale e umana, concorsero fondamentalmente due mondi, due dimensioni. Da una parte il solido mondo degli origini, quello sardo, specificatamente barbaricino, nuorese, agropastorale, sardofono e dall'altro il mondo altro, il mondo di in appartenenza, quindi il mondo italiano, quello romano, della Roma umbertina e della scrittura e per estensione diciamo il mondo europeo. Queste due componenti prepararono il terreno per le sue opere più mature. Come ha scritto Carlo Bo, la Deledda potrebbe vivere senza la Sardegna, ma non potrebbe essere ciò che è e ciò che è stata senza la formazione di Nuoro, senza la sua prima formazione. È a Nuoro che è iniziato il suo processo educativo e a Nuoro che è nata ed è cresciuta Cosima. Si sbaglia quindi quando la si considera una scrittrice regionale e si è nel vero quando la si coglie nell'intimo segreto del grande sogno. Il suo apprendistato letterario inizia da subito, inizia da presto. Da quando lei a 17 anni invia alla rivista romana, l'ultima moda, il racconto sanguessardo. Dal 1890, anno di pubblicazione della raccolta nell'azzurro per i tipi della Trevisini, sino al 1939, anno di pubblicazione della Silloge, il cedro del Libano, raccolta postuma pubblicata da Garzanti, furono 20 le raccolte sistematiche pubblicate dalla Deledda, senza contare le tante novelle sparse. Stiamo parlando di un corpus di 400 novelle, senza il quale non si può naturalmente avanzare qualsiasi ragionamento critico. E' sempre dal 1890, anno di pubblicazione con l'Avenire di Sardegna del primo romanzo Stella d'Oriente, con lo pseudonimo di Santi Smel, fino al 1936, anno di pubblicazione del romanzo, anche questo postumo Cosima, furono più di 30 i romanzi pubblicati. Con Cosima, pubblicato appunto pochi mesi dopo la sua morte, prima con la nuova antologia, poi nel 1937 con Treves, si chiude sostanzialmente la sua parabola artistica e quindi anche la sua parabola esistenziale. Cosima può essere considerato il romanzo, certamente autobiografico, ma è il suo romanzo Testamento, il romanzo della riconquista e del riavvicinamento, quasi una sorta di romanzo del nostos, del ritorno a Itac, alle radici, alle proprie origini, quindi al cordone umbilicale, ma è reciso con la madre Terra. E questo processo rimemorativo, questo ritorno a Itaca, significativamente parte con la descrizione della casa. Il romanzo si apre con questa grande descrizione della casa. La casa, scrive la De Ledda, nell'incipit, semplice ma comoda. La casa padronale che appunto nasceva nel quartiere di San Pietro, che secondo la dinamica dei centri concentrici, inglobava e ingloba il vicinato e poi la comunità. Quindi una memoria familiare, una memoria sociale, è certamente una memoria storica. La descrizione è una descrizione ampia, ricca di particolari, molto doviziosa, che parte dall'organizzazione dello spazio della casa, già dall'ingresso, dalle scale, le scale in granito e in ardesia, due camere per piano, la camera con lo scrittoio, la camera dispensa, quindi l'orto, la cantina, e però al centro sta la cucina. La cucina, questa sorta di operoso e accogliente gineceo, con il focolare descritto al centro della stanza e il suo camino, che era il cuore pulsante della casea patriarcale. e quindi il momento, il luogo, in cui si svolgeva fondamentalmente la vita familiare. Cos'è la casa per la deledda? La casa è certamente l'utero materno, è il luogo delle origini, è il luogo della prima conoscenza, è lo spazio delle emozioni, ma anche lo spazio dell'educazione del cuore, punto di partenza e punto di arrivo. La casa è anche il luogo della scrittura? O meglio, la casa è anche il luogo, penso alla camera scrittoio, della prima scrittura. E se i luoghi della scrittura sono circoscrivibili, ovviamente, a quelli delle quattro mura, i luoghi dell'oralità, così ben rappresentati da Grazia dell'Edda, sono i più disparati. Appunto, le strade, le piazze del vicinato e del paese, le piazze della chiesa, i luoghi della festa, sacra e profana, sascumbisiasa, i luoghi che intorno alle chiese e ai santuari accoglievano i pellegrini, ma anche i ritrovi, i ritrovi dei nuoresi, e i luoghi dell'oralità sono anche a volte, anzi spesso, possiamo dire, i luoghi del canto. Sacantone. Il canto apparteneva alla vita dei nuoresi e dei barbaricini, in maniera trasversale, apparteneva ai tempi del lavoro e ai tempi della festa, agli auguri della nascita e al lamento della morte, penso a Sonninnidos e a Sosatittos, ai canti religiosi, i gosos, ai canti Amebei, come nella migliore tradizione mediterranea. Alcuni improvvisavano, componevano a Bolu, altri cantavano a tenore, che era il vero canto autoctono, nuorese barbaricino, nella forma del gruppo dei quattro cantori e della polivocalità del gruppo dei quattro cantori, con il recitativo melopico desa bocche e con le armonie desu bassu, desa contra e desa mesuocche, oppure c'erano i muttos, che erano dei canti monostrofici che Cirese vedeva molto vicino agli strambotti, agli stornelli e che erano cantati con una voce sola, nella forma lirico e nodica della Baturina. Si trattava di una coralità di ispirazione popolare veicolata in lingua sarda che ha costituito un vero e proprio serbatoio di conoscenze e di saperi antropologici per la Deleida. Lei stessa come si vedrà lo scrive e teniamo conto che il padre era lui stesso un poeta improvvisatore, fit uno cantatore. sugane sudduttore si nata busca busca non lo chiede o pastore che lo curre sa musca sugane sudduttore si nata busca busca non lo chiede o pastore che lo curre sa musca sugane sudduttore si nata busca busca non lo chiede o pastore che lo curre sa musca sugane sudduttore si nata busca busca non lo chiede o pastore che lo curre sa musca adesso puoi allontanare questo ferro gelido dalla mia faccia cosa sono? non riesco a capirlo è ferro arrugginito potrei tagliarmi? a che ti servono? qui non c'è niente da tosare ti ho accontentato allontanale adesso mi metterò a urlare mi ricordano di quando ero una bambina malvestita sempre sporca di terra di quel giorno in cui una mosca spara larve ha colpito l'occhio sinistro poi in quello destro depositando i futuri vermi i vermi sono cresciuti in me gonfiando l'occhio sinistro lo zigomo sinistro poi l'occhio destro lo zigomo destro il mio volto è diventato livido deforme e non potevo più uscire di casa per il dolore e per la vergogna poi un giorno ho sentito qualcosa che scendeva giù nella gola allontanale se vuoi che le veda bene ho freddo senza i miei indumenti gelo in questo buio che non comprendo più dove la mia valigia dove sono i miei scritti l'odore dell'olio rancido e pungente così vicino e non riesco a trovare pace ti prego portale lontano così mi sento minacciata dai ricordi più in là su oltre la riva come una nube sopra il mare che volino con gli stormi che si adagino sui rami degli olivi millenari come fossero corvi piano molto piano senza spezzare i rami senza graffiare le foglie non dico di indugiare ma con grazia la rugiada si è schiantata sopra una foglia malata che è già sposa della terra ecco ora mi sembrano uccelli dal becco tropicale ma sono timidi e volano volano via e non ne rimane più memoria ho bisogno di silenzio per un po' qui mi sento stretta asfissiata ho voglia di studiare ho desiderio di viaggiare occhi miei che leggono leggono quello che non c'è occhi miei che vedono vedono il germoglio che non teme di essere adulto ora le forbici hanno ripreso il volo c'è la bestia sotto i ferri bestia denudata e poi liberata la lana già dentro i sacchi viene spinta sul fondo dalle braccia dei bambini e delle bambine l'olio animale si imprimerà nella loro pelle e la puzza tormenterà i loro nasi per alcuni giorni ma la lana è soldo il soldo è cibo la lana la lana giusto il tempo di lavarla e asciugarla e finirà dentro il cuscino di qualche borghese sento il brusio dei commensali il pastore è faticato e ora vuole solo bere e mangiare come tutti come tutte dopo una sudata fatta per restare in vita e anch'io ora nell'estremo sforzo di immaginare per allontanare questa noia che uccider mi pare anch'io voglio bere e mangiare lasciami scrivere il mio ultimo libro poi smetterò di guardare il germoglio che si è fatto pianta mai ho ingannato con la mia scrittura mai ho tradito qualcuno di voi ho temuto la verità e l'ho allontanata consegnandola ai lettori per farli complici non era speranza ciò che volevo dare lo chiamavate futuro ma quest'oggi del 2080 il 2080 è così vicino alle miserie dell'intelletto umano che io ora qui anche con i polsi liberi non voglio più uscire di qui se uscire significa non poter scrivere la veledda fu certamente una donna moderna moderna attuale scrisse ad angelo de gubernatis nel 1892 sento tutta la modernità della vita dei tempi nuovi sono molto coraggiosa nella vita che per intima vocazione senza studi senza essere mai uscita dal mio nido selvaggio ho intrapreso nessuno mi ha mai aiutato pochi mi hanno compreso neppure nella mia famiglia e il poco che ho fatto l'ho fatto tutto da me in poche righe come un distillato sapienziale la veledda racchiude in questa lettera quasi una sorta di dichiarazione di intenti di orizzonte di senso quasi possiamo dire un vero e proprio programma esistenziale c'è prima di tutto l'ambizione della fanciulla un'ambizione fortissima scriverà a tal riguardo a maggiorino ferraris nel 1890 avrò fra poco vent'anni a trent'anni voglio aver raggiunto il mio radioso scopo qual è quello di creare da me da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda e due anni dopo a Stani Smanca l'angelo biondo scriverà è il sogno dell'arte della gloria che mi mantiene viva che mi sprona a vivere forse una stoltezza ma io sento una fiera ambizione artistica ma io credo di diventare un giorno qualcosa e nelle mie preghiere non dimentico mai di chiedere a Dio a questo immenso Dio a cui voi non credete e che io trovo nella mia stessa tristezza o Signore infinito guaritemi da questa febbre e fatemi diventare grande eccola la caparbietà dell'autodidata l'ostinato desiderio di riuscire a realizzare il suo sogno il sogno della fanciulla il grande sogno anche ponendosi contro il mondo delle origini ma non solo leggiamo in questa lettera anche l'anelito verso il futuro l'anelito verso il futuro la predisposizione ad accogliere appunto come scrive lei stessa tutta la modernità della vita e del mondo quindi la ferma volontà ad autodeterminarsi ed emanciparsi come dire una sorta di fanciulla che prova e riesce a costruire se stessa e a scrivere da sola il proprio destino la deledda non fu una femminista nel senso in cui questo termine si affermò storicamente ideologicamente sbaglierebbe chi la considerasse tale e non partecipò ai movimenti femministi volti a come dire affermare a riconoscere i diritti della donna anche in antagonismo a quelli dell'uomo e tuttavia lei si conquistò i suoi spazi da sola i suoi spazi di libertà i suoi spazi di autonomia e di autodeterminazione aiutando le altre donne ad esempio oltre che costruendo il proprio destino ecco perché la deledda è anche da questo punto di vista una donna moderna perché la sua stessa vita la sua stessa esistenza l'essersi costruita da sola a dispetto di tutto a dispetto dei tempi a dispetto delle mode e a dispetto degli uomini lei diventa un modello ancora oggi per tante donne nel 1902 fu ad esempio la prima donna che affrontò il tema del divorzio dopo il divorzio nello stesso anno in cui un parlamentare sardo Francesco Cocortu presentava un disegno di legge ovviamente poi non convertito in legge fu un romanzo importante che fu tradotto nel 1905 in lingua inglese e distribuito negli Stati Uniti fu la prima donna o fu una delle poche donne che nei suoi romanzi nelle sue storie affrontò temi forti il tema dell'omicidio il tema del suicidio nel 1909 addirittura si candidò con i radicali nel collegio di Nuoro alle elezioni politiche quando le donne non potevano votare la deledda conquistò i salotti della Roma umbertina e lottò aspramente contro l'insofferenza degli uomini fu semmai il marito Palmerino che si licenziò per aiutarla a rivestire se possiamo dire in casa un ruolo secondario quasi da gregario anche per questo quindi possiamo dire che la deledda ha incarnato il modello di donna libera emancipata autodeterminata che è stata capace da sola davvero di costruire il proprio destino il rimedio bisogna avere null'altro il rimedio in mio cuore 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 bisogna avere null'altro come riesco io a scopare qualcuno che legga, che capisca questo mio ultimo libro, se non mi posso spostare di qui. Il mio rimedio è scrivere, e tanto ho scritto qui, in esilio, da mesi ormai. I fogli che mi ha concesso stanno terminando, e l'inchiostro della mia penna si sta arrendendo la sua inutilità. Cede il passo al vuoto, all'urla. Dove sono i santi e le mie maestre? 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 Dov'è lei? In quale stanza sui diceva lei l'inchiusa? Resta ancora qualcosa della sua figura? O l'avete sfregiata del tutto? Perdono 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 Tu mi hai insegnato il perdono Senza le sue parole Io qui Vicino alle mie tremo Come? Come? Di grazia Come hai trovato il tuo rimedio Quando hai fatto scoppiare la bomba in paese Non curandoti dei residui Delle macerie Esibite sulle bocche delle malelingue A questo vuoto A questo vuoto A questo vuoto non esiste rimedio Persino tu sei ricoperta di polvere Ci fosse almeno ecco qui dentro Mi parebbe di sentire qualche risposta Accasciata dall'ambiente Io non ho speranze Non ho illusioni E diffido Del mio avvenire personale Mentre Ho molti sogni Sul mio avvenire artistico E noi Quelle che pensavi come donne del futuro Ancora a dover spiegare A dover dimostrare I pochi che creano Sono uomini A cosa ci hanno ridotto Donne del futuro La vandaglie di parole Sembrava possibile ogni cosa Ma sono caduta Dentro al tutto Che mi era stato promesso Tu invece Sei riuscita a uscire dal nulla Che ti avevano giurato E sola Sei partita per la tua Gerusalemme Grazie a tutti Grazie a tutti In molti dei romanzi della Deleida giungono a convegno molti temi e motivi novecenteschi, peraltro le forme e i contenuti esemplati da una ricca tradizione letteraria e riadattati dalla scrittrice nuorese in mutati contesti linguistici quasi mai si risolve in un artigianato compositivo fine a se stesso. Nella sua scrittura non c'è compiacimento retorico, non c'è maniera. La Deleida utilizza l'artificio per parlare d'altro, per un fine più alto. Ecco, da questo punto di vista lei è una grande erede della tradizione umanistica. Quella tradizione umanistica che aveva teorizzato l'oraziano miscere utile dulci e il delectando. Cioè aveva costituito quell'idea di letteratura come fondamento e come formazione della vita morale e intellettuale dell'uomo, ma anche come moderazione della sua natura. Cioè una letteratura è un'arte puramente educativa con finalità prevalentemente etiche. Nelle migliori pagine della Deleida si trova scritto della condizione dell'uomo, essere per la morte e della sua insondabile natura. Natura che agisce lacerata tra bene e male, tra pulsioni interne e coggenze esterne, tra predestinazione e libero arbitrio, nella limitata scacchiera della vita. La vita che è progetto, è dolore, è certamente affanno, ma per la Deleida la vita è anche provvidenza e mistero. Certo lei sa, in linea con la migliore letteratura europea, che quella natura è manifestazione anche dell'universo psichico. Un universo psichico popolato e abitato da rimozioni e da censure. Quindi nelle sue storie noi non di rado troviamo da una parte le convenzioni e le regole della società e della comunità d'appartenenza, ma dall'altra come in una sorta di doppio, di doppio confliggente, immagini, pensieri e anche azioni che agiscono nei personaggi e che condizionano la loro pragmatica. La coscienza dell'io narrante sembrerebbe rivestire il ruolo del demiurgo onnisciente, dell'osservatore quasi neutrale di queste dinamiche o di queste complesse dinamiche di relazione intercorrenti tra personaggi che sembrano recitare il loro dramma in un cupo teatro dell'anima. ma in realtà non è così. Il sentimento di adesione e repulsione della narratrice, proiezione autorale, trova la discriminante di fondo nella religiosità professata e vissuta. Cosa si vuol dire? Cioè di fronte alla vita, alla dolorosa esperienza del vivere, davanti al dolore, all'ingiustizia, l'uomo può soccombere e giungere allo scacco finale oppure può scegliere facendo il grande salto che è la fede di Dio e il suo mistero. Terribili tormenti vive chi nel libero arbitrio sceglie la via del male e se ne assume, come dire, e ne prova soprattutto tutte le colpe. La maturazione del personaggio quando avviene avviene sulla via di Damasco, dal buio e dalla cecità del male alla luce e alla rivelazione del bene. C'è l'errore, quindi il delitto, la colpa, la contrizione, l'espiazione e la conversione. Solo chi beneficia della grazia di Dio e chi tende alla grazia di Dio non deve temere il suo destino per la deled, un destino che è segnato dal senso della precarietà e della caducità di tutte le cose. Le figure delediane vivono fino in fondo questa incarnazione in personaggi da tragedia e però il lettore in questo processo di medesimazione nelle passioni umane non conosce catarsi, non conosce liberazione perché in realtà le vicende umane non si sciolgono e non rivelano, come dire, nessun nesso razionale. E quindi cosa resta? Cosa resta nella deledda? Cosa resta nella sua narrativa? Resta la pietà. Resta la pietas come partecipazione compassionevole verso tutto ciò che è mortale, verso la comprensione nei confronti delle debolezze e delle fragilità umane. Resta questo sentimento misericordioso che induce comunque al perdono e alla riabilitazione di una comunità di pecatori con il loro destino sulle spalle. Ecco, anche da questo punto di vista, per questo senso di pietà cristiana, la deledda è prima ancora che una grande iscrittrice, una grande donna. O fame è freddo, la mia paura si ingigantisce. non sono ardita e coraggiosa, come un gigante. Eppure, eppure anche io ho un sogno tormentoso, febbrile di celebrità, che preferisco chiamare meridità. Giaccio sopra un tappeto consumato dal via vai di uomini ridotti che hanno calpestato i piedi nudi, della signora dal paesaccio sconfinato, mia madrina d'arte che nel mondo è arrivata meridità. Eppure, la debolezza, il coraggio. l'ardore d'amore proibito, il male scelto come strada di vita, la morte che arriva come sorella della caducità, ma anche le bellezze sconfinate della terra e del cielo su cui ancora l'alveggia e tramonta la generosa l'ora. come posso io restare a fianco del loro incessante camminare? sento la puzza dei loro piedi. E' curioso come tutto nella natura e nell'uomo tende al basso. se lei, piccole mani incessanti, turgida spina e delicato petalo di rosa, sempre pronta a migliorarsi, a completarsi, è riuscita a varcare i continenti con l'edera e la cenere e il vento che sulle canne, anche le più radicate, infuria e le piega inesorabilmente. se lei, a stento ora, viene ricordata, accarezzata da pochi occhi gentili. come posso io, qui rinchiusa, per colpe che non voglio espiare, come posso sopravvivere alle mie opere? ci cammineranno sopra altri uomini, verranno bruciate, affogate. chi leggerà i miei racconti di donne che hanno assassinato regole contro natura? la natura regole non ha muri addobbati di spilli di dolore, spacciato per dovere. che ne sarà delle mie donne nate femmine che attraversano nude, laie e fiumi alla ricerca ossessiva del piacere? femmine, obbligate a essere donne ammansite, il verbo scegliere, che fine farà? e i miei uomini, desiderosi di lacrime versate davanti a un pubblico non pagante, obbligati a essere blocchi di granito? in quali stanze soffocheranno il sostantivo femminile infelicità? dove potranno incontrarsi per celebrare lo scorrere della passione? io io loro loro e voi voi che immobili restate impietriti potete dirvi vivi le vostre scarpe sono consumate è un viaggiare continuo la vita che dite di abitare o siete morti e da morti vi lasciate trascinare vestiti da turisti nelle colline d'olio mai bevuto o negli aspri vitigni che spremuti vi regalano l'illusione di vita divina o preferite nuotare in un mare di idee abortite venite voglio bagnare le mie pagine stare qui senza carta e penna affogare aiutatemi ascoltate la mia preghiera la sua voce abita in me ruberò un paio di scarpe camminerò verso le vostre case vi racconterò di Cosima di Marianna di Elias del servo Efis duecento anni fa lei nasceva e ancora la sento bisbigliare al mio sentire è possibile Elisa devi scrivere io ci sono riuscita sento il rumore della sua scrivania pressata dalla mano di fata che scolpisce a parole i visi i paesaggi la pietà umana traccia i confini del suo immaginario per sconfinarli di proposito apriteci le porte se non volete me leggete la sua opera non ho paura di rubare per bisogno indosserò anche tutte queste scarpe se ne avrò ingegno il mondo lo conosco e ogni cosa che succede doveva succedere lasciatemi uscire vi aiuterò a restituire a grazia quello che ancora non ha non preoccuparti non pensare a nulla tutto va bene nel mondo a saper prendere le cose con calma e filosofia tutto sta a volersi bene a trattarsi con gentilezza eppure non faccio che vedermi i carponi su queste vecchie scarpe rubate ma che non sono le tue ma che non sono le tue attraverso i linguaggi dell'arte e della letteratura ogni comunità ogni popolo effettui la transizione modellizzante dal piano della natura a quello della cultura certamente con la trasfigurazione metaforica e simbolica dell'isola con l'opera della Deleida si è realizzata una sorta di sublimazione proprio jungianamente intesa di una sorta di inconscio collettivo cioè di un grande archivio di simboli di miti e di modalità rappresentative che si sono strutturate quasi in archetipi fondanti e che si sono trasmesse nel tempo archetipi fondanti intesi come immagini e figure ricorrenti che non sono solo della Deleida e della scrittrice quindi dell'unico individuo o del singolo individuo ma di un intero popolo pensiamo ad esempio alla descrizione del paesaggio alla rappresentazione del paesaggio al rapporto con la madre terra con la natura a una certa idea della vita e della religione alla concessione del tempo e del mito al concetto di straniero al tema e al motivo della memoria e della nostalgia tutti questi sono luoghi figure ricorrenti ossessivamente ricorrenti nella narrativa dell'ediana ma non solo in tutta la letteratura sarda ed è una delle ragioni per le quali possiamo dire che Grazia Deleida sia davvero la madre della letteratura sarda in modo particolare del romanzo novecentesco in Sardegna la Sardegna non è solo uno sfondo neutrale la Sardegna è la vera protagonista dei suoi romanzi e dei suoi racconti Nerei di Rudas scomodando le categorie della psicanalisi ha scritto e ha detto che la Sardegna la Sardegna non è solamente un luogo la Sardegna è il luogo il luogo per definizione e anche l'altrove è il qui adesso immerso nello spazio e nel tempo Emilio Lussu scrisse che ovunque si vada ovunque ci troviamo come Sardi portiamo sotto i nostri piedi la terra sarda e a Giuseppe Dessi quando gli chiesero come mai gli autori sardi scrivessero solo di Sardegna lui rispose che a raccontare se stessi si può essere universali a parlare degli altri si è sempre provinciali e citando Leibniz e Spinoza Dessi continua dicendo che ogni punto dell'universo può essere centro e allo stesso tempo periferia dipende da dove si vuole vedere il mondo l'originalità è la forza della narrativa sarda è l'originalità è la forza della narrativa delle Diana stanno proprio in questa appassionata e magistrale rappresentazione descrizione della Sardegna di Nuoro dell'automodello sardo e quindi della proiezione simbolica del suo universale concreto l'isola tramite la sua operazione artistica culminata col Nobel ritorna con la Deleida ad essere centro non più periferia l'isola che viene restituita all'immaginario europeo isola intesa come luogo mitico ma anche come archetipo di tutti i luoghi terra senza tempo e sentimento di un tempo irrimediabilmente perduto spazio ontologico quindi esistenziale è spazio antropologico entro cui si consuma l'eterno dramma del vivere possiamo dire per la Deleida e per gli scrittori sardi la Sardegna come spazio dell'esistenza assoluta la montagna ad esempio rappresenta per la Deleida dentro nel quadro della rappresentazione del paesaggio sardo un elemento morfologico distintivo caratteristico come le rocce ad esempio le montagne sono per lei certamente i monti protezione i monti protezione del suo nido presidio ma nel tentativo di oltrepassare la finestra limine le montagne rappresentano anche il limite da varcare con l'immaginazione con il vago immaginar è la prima montagna che la Deleida vede rappresenta sogna immagina dalla sua finestra limine non può non essere l'ortobene l'ortobene è questo imponente rilievo ricoperto di boschi e di folte e sugherette e disseminato di rocce granitiche dalle varie forme è stato per la Deleida ma per i nuoresi l'anima stessa il carattere della comunità un punto di riferimento una sorta di citerone monte di tebe ricco di acque freschissime e di cupi boschi e le cui storie care agli dei erano ruvide come le rocce appunto che lo ricoprivano e però la montagna e il paesaggio boschivo diventano un'occasione irripetibile per la Deleida per affrontare un altro importantissimo tema quello del taglio dei boschi il taglio dei boschi visto come distruzione di un ecosistema ma anche come attacco all'autonomia di una terra non esagererei nel dire che da questo punto di vista l'anima green si direbbe oggi di Grazia Deleida ce la potrebbe così simpaticamente far paragonare una sorta di Greta Thunberg antelittera romanzi novelle affrontano il tema del taglio del bosco lo ricordo un tema che poi riprenderanno molti scrittori nel novecento io penso solo a una novella colpi di scure primi del novecento dove lei racconta di zio Cosma il vecchio pastore dall'area sacerdotale che rappresenta la Sardegna che resiste che seduto ai piedi di un elce nell'antica foresta aspetta i portatori di desolazione e di morte sono ancora lontana devo raggiungere la perfezione la perfezione lo so non chiamarlo sogno spesso sbiadisce viene dimenticato usa la parola tarlo ecco è un tarlo che lascia il legno quando questo dimora in lui è divenuto farfalla esce alla ricerca dell'accoppiamento per dare inizio a una nuova infestazione imparerò a scrivere anch'io a ritmo programmato come grazia una due ore al giorno tutti i giorni 365 giorni all'anno per il mio sempre cullerò nel mio grembo il tarlo cornuto il tarlo capricorno alcuni lo chiamano orologio della morte perché scandisce la notte e il giorno teme di incontrarlo vorrei avere un briciolo della tua determinazione maestra smetterei di vedermi monca eppure non ho fratelli che strappano le pagine ardite dei libri che leggo ho potuto amare dolci uomini non facoltosi non sempre colti e benestanti non sono stata insultata dai miei compaesani come te ma come te mi derido mi canzono ironizzo sul mio aspetto fisico nascondo il mio sorriso per paura di essere nuda davanti a tutti e come te il mio cervello deve fare molti rimbalzi prima di scrivere qualsiasi parola sul foglio lingua sarda pensiero lingua italiana scritto ma è così lontana dai miei suoni frase pensata frase detta come riuscivi a dire dell'universo senza allontanarti da te non è destra o sinistra il tuo era eros come impeto di vita voglio fare come te voglio 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 fondere e confondere l'appartenenza a tutto il resto mondi che si parlano il resto cado chissà che rumore farebbero le mie ossa dopo il volo quali si spezzerebbero per prime quanta polvere diventerebbe nuvola dentro al burrone il mio altrove dov'è ogni mio slancio è perdita d'equilibrio non c'è ancora pace per questo conflitto di codici estetico, giuridico, linguistico se è vero che siamo ciò che vediamo e ciò che sentiamo allora io sono una bugia dov'è il mio passato? perché mi hanno farcita con sciocchezze sul futuro? voglio continuare a studiare concedermi il tempo di studiare ho pochezza d'intenti mai ho mangiato il fegato ancora caldo dei maiali sventrati è un rito di coraggio per me nessun avo che mi abbia sussurrato nascondi la tua debolezza no non voglio finire nella voragine sanguinante della vita sette volte riscrivo la stessa opera è naturale ma si capisce così si fa non c'è altra strada eppure la mia penna trema in quale stanza sei maestra? ho bisogno di protezione non c'è montagna o roccia in questo mio cammino solo colpi di scure foreste dissacrate ma senza il legno non esiste il tarlo a 50 anni dall'unificazione nazionale la Deleida ebbe il merito di traghettare il romanzo sardo nel novecento italiano ed europeo è di consegnarlo alla media borghesia italiana che si era formata sui romanzi da appendice sui classici della lingua e della letteratura con l'aiuto delle grammatiche normative le dizionari penso a Fanfani Giorgini Petrocchi Broglio è quella stessa borghesia che proprio in quegli anni stava crescendo con la letteratura di consumo e con quella idioma gentile scritto dal De Amicis che proprio in quegli anni pubblicava nel 1905 con la casa editrice Treves la casa editrice con la quale aveva pubblicato la Deleida la Deleida possiamo dire che da un punto di vista linguistico e letterario fu per gli scrittori sardi in lingua italiana ciò che Manzoni era stato per gli scrittori ottocenteschi delle tante Italie cioè un modello certamente letterario il romanzo Nascio in Sardegna con la Deleida ma anche linguistico un modello credibile e perseguibile cioè con lei si realizza proprio quel salto di qualità in quell'opera di adattamento di adeguamento dei modelli culturali sardi propri autoctoni del suo strato sardo ai codici ai linguaggi ai generi di un sistema linguistico letterario di in appartenenza nelle parti discorsive nelle parti narrative ma anche in quelle descrittive lei utilizza la medietas la medietà cioè l'utilizzo di un registro linguistico che si affranca dalla declamata superprosa danunziana da quella prosa ampollosa impreziosita legittimante e sceglie invece una lingua più concreta più popolare più d'uso i romanzi della Deleida possono anche non piacerci ma da un punto di vista linguistico sono ancora dei romanzi leggibilissimi quando si parla di medietas e di medietà non si intende grigiore non si intende mediocrità nel senso con il quale si intende oggi o povertà di linguaggio come qualcuno ha scritto e invece equilibrio giusto mezzo come dire da un punto di vista e parafrasando Orazio evitare l'alto pelago ma anche la costa malfida cioè un punto d'incontro tra codici e mondi diversi quindi il sistema italiano e il sistema sardo il sistema sardo e il sistema italiano ma non solo lei indica una strada percorribile a tutti quegli autori sardi che devono inevitabilmente fare i conti col conflitto dei codici cioè la grande questione stava nel mettere insieme mondo degli origini e mondo d'appartenenza cultura osservata quella sarda barbaricina sardofona e cultura osservante quella italiana lei sostanzialmente che fa traduce proprio nel senso latino trasporta un universo sardofono dentro attraverso un codice di inappartenenza che nel toscano letterario scritto perché il narratore che lei deve creare è un narratore che rimanendo vicino e poco lontano diciamo dal mondo rappresentato potesse trasferire raccontare l'anima della sua gente a un pubblico d'oltremare e quindi lei sceglie nelle parti dialogate nelle parti sceniche nelle parti teatrali sceglie la soluzione mimetica imitativa saccheggia il suo strato sardo i calchi i modi del parlato tutto il suo strato etno-linguistico per rendere credibile quella sua operazione letteraria quando trovi il coraggio di esporti alla luce devi sapere che il sole si alterna alla luna e che la luna si assottiglia a tal punto da consegnarti alle tenebre se trovi il coraggio il coraggio non basterà a farti tutti amici sarà illuso che bastasse dire la verità per essere creduto semmai uscirò da queste stanze dalla mia prigionia dalla codardia dal tormento di essere o non essere semmai coglierò i giusti sassi che grazie a Maria Cosima Damiana De Ledda ha seminato per la prole di scrittori e scrittrici che l'ha amata e odiata e in fondo anche per me tornerò a giocare a Bicus Savia cosciente che l'indugiare ha appesantito le mani farò pace con la mia finestra a limite e riuscirò a avarcarla e riuscirò la mia finestra a Pettegola Isterica Gallina dalle uova d'oro Casalinga prestata alla mente Noi la uccideremo a colpi di spillo Pettegola Noi la uccideremo a colpi di spillo Noi la uccideremo a colpi di spillo Eppure Grazie ad Eledda ha vinto il Nobel Unica italiana Seconda al mondo E io? Cosa raccoglierò? Poco importa Ora voglio solo essere perdonata Il rimedio è in noi Cuore bisogna avere null'altro Il rimedio è in noi Cuore bisogna avere null'altro Il rimedio è in noi Cuore bisogna avere null'altro Il rimedio è in noi Il rimedio è in noi Cuore bisogna avere null'altro Il rimedio è in noi Cuore bisogna avere null'altro Il rimedio è in noi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho smarrito la via, allontanando la mano maestra. Ora voglio solo creare un nuovo impasto di cenere e uova. Un impasto di uova, cenere e perdono. Voglio provare a rendere elastica la fine di un fuoco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diverismo e decadentismo non la si poteva capire. Perché grazie ad Eledda appunto era sarda e apparteneva a un sistema linguistico, culturale, letterario, altro rispetto a quello italiano e a quello delle tante Italie. Che cos'era la Sardegna? Se noi pensiamo alla storia politica, istituzionale, culturale e linguistica della Sardegna, ci viene naturale chiederci quale specificità, qual'identità, quale peculiarità e quale conflitto dei codici. Appunto col sistema altro e col sistema italiano in modo particolare. Quindi quale interferenza comunicativa. E quando si dice conflitto dei codici, non si intendono solo i codici verbali, linguistici. Qui intendiamo codici estetici, codici giuridici, codici culturali in genere. Cioè come l'incapacità di un occhio altro di capire, di comprendere un sistema peculiare e complesso, molto connotato. Con propri valori, propri criteri di inclusione e di esclusione, non facilmente comprensibili appunto con linguaggi di inappartenenza. Certo, la Sardegna fa parte della più generale cultura mediterranea, europea o occidentale. E l'identità sarda è il risultato di un lungo processo storico e polimorfo, ricordiamo, veicolato da più lingue. E però quella testualità prodotta è stata una testualità che è stata, quando è stata considerata, erroneamente collocata esclusivamente, se non in modo caratterizzante, all'interno del solo sistema italiano. Senza tenere conto appunto di questa peculiarità e delle sue peculiarità. Peculiarità intanto di tipo geografico, di tipo fisico, di tipo ambientale. Sardegna ha quasi un continente, è stato scritto. Tanto l'insularità, che non è stata solo isolamento. Policentrismo, Nuoro non è Sassari, Sassari non è Cagliari, Carloforte è Calasetta, non sono la Maddalena, non sono Olbia. E quindi il particolarismo cantonale. Questa è la ricchezza, pensiamo alla straordinaria biodiversità di questo piccolo continente. Peculiare per ragioni storiche, in quanto terra che si è, come dire, alternativamente aggravitato dentro culture egemoni. Pensiamo alla Fenicio Punica, pensiamo alla civiltà romana, a quella bizantina, a quella italiana delle repubbliche marinare, a quella catalana, a quella castigliana. Ancora a quella italiana, quando nel 1720, col trattato di Londra, la Sardegna rientra nell'orbita sabauda. E poi, naturalmente, peculiare per ragioni linguistiche. Cioè, la lingua sarda, con le sue varietà, e le altre lingue minoritarie, pensiamo alle lingue alloglotte, che hanno prodotto appunto una loro attestualità, che si sono variamente intrecciate con le lingue dei dominatori e le lingue esogenee. Tra tutti, insieme all'italiano, pensiamo ai 400 e più di 400 anni di dominazione iberica, prima catalana e poi castigliana, che hanno notevolmente condizionato il superstratto sardo. I poeti, gli scrittori sardi, almeno dopo l'unità, ma non solo dopo l'unità, a partire, ad esempio, dal 500, si pensi alla Raolla, ecco il plurilinguismo, il grande tratto caratterizzante della Sardegna, il policentrismo, ma anche il plurilinguismo, e quindi la pluritestualità. Gli autori sardi si sono cimentati, quasi tutti, quasi tutti, almeno fino al 900, almeno con due lingue, la Raolla addirittura con quattro o cinque lingue. Alternativamente c'è il sardo, ovviamente con le sue varietà si diceva, poi c'era il latino umanistico, il catalano e il castigliano, il francese degli illuministi della corte dei Savoia, e naturalmente l'italiano. Quei poeti e quegli scrittori che soprattutto dopo il processo di unificazione si fecero interpreti raffinati di questa mutazione anche antropologica, di questo passaggio, si fecero interpreti raffinati di questo passaggio e promotori, in qualche modo, di quest'opera di rivalutazione e di difesa di un'identità culturale. Ecco, Grazia Dell'Edda fu la grande interprete di questa operazione culturale, linguistica e letteraria. Cioè con lei si attuò appunto quel salto di qualità nel processo di adattamento di quei modelli culturali sardi, autoctoni, ai codici e linguaggi di inappartenenza propri di un sistema linguistico e letterario che era proprio degli italiani. Intendo ricordare la Sardegna della mia fanciullezza, paese, almeno per me, ancora di mito e di leggenda. E certo, nei costumi e negli usi dei centri, anche i più solitari della Sardegna, nelle loro feste, nei loro riti, sopravvivono tradizioni originali che risalgono ad epoche anteriori alla civiltà orientale e a quella portata nell'isola dalle prime dominazioni straniere. Ma soprattutto, la saggezza profonda ed autentica, il modo di pensare e di vivere, quasi religioso, di certi vecchi pastori e contadini sardi, fa credere ad un'abitudine atavica di pensiero e di contemplazione superiore della vita e delle cose di là della vita. Da alcuni di questi vecchi, conosciuti nella mia fanciullezza, ho appreso verità e cognizioni che nessun libro mi ha rivelato più limpide e consolanti. Sono le grandi verità fondamentali che i primi abitatori della Terra dovettero scavare da loro stessi, maestri e scolari ad un tempo, al cospetto dei grandiosi arcani della natura e del cuore umano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.